tutte le volte che provo a nominare Cenerentola 3 o Aldin 4 la gente mi guarda male perché non sanno che esistono e quindi faccio un video dove li elenco tutti quanti e vi spiego di che cosa parlano così potrete apprezzarli anche voi o odiarli, giustamente. Il Gobbo di Notre Dame 2, no non ne vale la pena, il Gobbo di Notre Dame è bellissimo così com'è, il 2 può essere carino ma no, no, no. Cerca infatti di recuperare tutti gli stereotipi che il Gobbo di Notre Dame ha cercato di rompere con una storia d'amore per Quasimodo e una campana scomparsa. Se piuttosto che il classico Disney avete letto Il Libro della Giungla o se fate parte degli Scout sapete benissimo che la storia di Mowgli non si conclude come nel film. Walt Disney con Il Libro della Giungla infatti racconta solamente una piccola parte di tutto quanto è il libro che appunto racconta anche l'età adulta di Mowgli e un sacco di altre cose che succederanno dopo il suo confronto con Sharkan. E questo film cerca di raccontare un altro pezzettino del libro, quello subito dopo, quello che abbiamo già conosciuto. La storia con lo scontro finale fra Mowgli e Sharkan è in cui Mowgli dovrà insegnare stavolta agli esseri umani a vivere un po' di più nella giungla e non averne semplicemente paura ma cercare di capirla. Questo succederà quando Shangri, la fia di cui Mowgli si è innamorato, riuscirà a perdersi nella giungla. L'animazione è davvero più che ottima, vale davvero la pena di guardarlo. Guarda caso lo stesso studio di animazione di Bambi 2. E allora attacca, Papa Orso! Ti bastano poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. In fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile trovare quel po' che occorre per campare. Il Re Leone 2 Simba è cresciuto e ha una figlia, Chiara. Ora che lui deve prendere il posto di Mufasa, non sa come comportarsi nei confronti della figlia, che si innamora follemente di Kovu, il figlio di Scar. E questa sfera d'amore, che prende largamente ispirazione da Romeo e Giulietta, è fatta in modo abbastanza carino. L'animazione non è un granché, ma la trama è effettivamente ben costruita. In più c'è una canzone che, secondo molti fan, è considerata fra le migliori della Disney. Il Re Leone 3, che non ha nulla a che fare con Il Re Leone 2. È più noto come Il Re Leone e Mezzo, racconta infatti tutta quanta la storia del Re Leone, ma dal punto di vista di Timon e Pumba. Io pensavo fosse una cazzata, ma fidatevi, in realtà è bellissimo. Sotto tutti i punti di vista tecnici, è nettamente migliore del 2, ha una trama molto complessa, molto delicata e molto interessante. Non si basa solamente sul far ridere utilizzando Timon e Pumba, ma renderli dei personaggi molto più profondi e molto più sensati rispetto a come erano nel classico originale. Guardatevelo, davvero. Il Re Leone 4 del Lion Guard Di nuovo abbiamo davanti una serie. In questa serie, il figlio di Simba, quello più piccolo di Chiara, Kion, deve prendere il ruolo che aspettava a Askar, cioè quello di essere il guardiano delle terre del branco. Perché, certo, il re è il re, ma non basta il suo ruolo per governare l'intero paese. Così, Kion deve cercare di imparare a governare esattamente come ha fatto Simba e esattamente come farà Chiara. L'animazione non è fatta a mano, di conseguenza dà delle impressioni particolarmente diverse e molto deludenti rispetto al Re Leone, però effettivamente è accettabile, è decisamente accettabile. Coda, fratello Orso 2! Tu ne avevi bisogno? No! Io ne avevo bisogno? No! Nessuno ne aveva bisogno! Eppure c'è! Coda, fratello Orso 2! Sì, è una storia d'amore, ovviamente. La Bella addormentata nel bosco 2! Non ha assolutamente nulla a che fare con la Bella addormentata nel bosco! È solamente la storia di Aurora che cerca di governare il regno per conto suo, ma non ci riesce, ok? È questa la trama! La Bella e la Bestia 2 La Bestia, per qualche motivo misterioso, ha vietato il Natale in tutto il suo castello. E quindi, da quando sono maledetti, tutti gli oggetti che vivono nel castello non possono festeggiare il Natale. Ci troviamo infatti nel corso del film La Bella e la Bestia, nelle scene ambientate a Natale, ovviamente. Non credo che ci sia bisogno di dirvi che è questa la trama, trovare lo spirito del Natale. Già. La Bella e la Bestia 3 No Semplicemente no 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 La carica dei 101-2 Bel tentativo! Macchia è uno dei 99 cuccioli. E, innamorato follemente del cane paladino della giustizia che hanno sempre guardato in tv, decide, quando scopre che arriva a Londra, di muoversi per Londra alla ricerca di questo cane per incontrarlo di persona. E immaginate che cosa può succedere alla famiglia se si perde un cucciolo. La Sirenetta 2 Ritorna agli abissi La principessa Ariel ormai è cresciuta e ha avuto una bambina, Melody. Melody però preferisce il mare alla terra e farà esattamente ciò che ha fatto la madre, cioè rinunciare alle sue gambe per ottenere una coda da pesce. Praticamente la trama della Sirenetta, ma al contrario. La Sirenetta 3 Sappiamo benissimo che il re Tritone doveva avere una moglie per poter far nascere Ariel, ma non viene mai mostrata all'interno del cartone. Bene, preparatevi a scoprire la sua storia in questo film. L'animazione è nettamente migliore rispetto al precedente film della Sirenetta, ma... Ni? Pensate di questi sequel, quali vorreste vedere e quali avete già visto? Esprimete le vostre opinioni nei commenti. Dopo la parte 2 non può certo mancare una parte 3. Se vi siete persi la parte 1 la metto... ...da qualche altra parte. Troverò un posto. Già. Non so nemmeno se riuscirò a metterla qui, però... Diamo tempo al tempo, diamo tempo al tempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti